salve a tutti nella lezione di oggi abbiamo parlato del distillato soporifero il distillato soporifero è una pozione legale di livello base che provoca temporaneamente il sonno come si vede nel secondo libro nel secondo film può essere utilizzato anche inserendolo in altri prodotti come ad esempio bevande e cibi la si prepara in questo modo mettere quattro rametti di lavanda nel mortaio e due misurini di ingrediente base frantumare il tutto con il pestello fino a ottenere un impasto cremoso aggiungere due gocce di muco di vermicoli nel calderone aggiungere altri due misurini di ingrediente base riscaldare il calderone a fuoco lento e spegnere la fiamma aggiungere tre misurini dell'impasto precedentemente ottenuto lasciare fermentare il composto per ben 70 minuti agitare la bacchetta versare nuovamente nel calderone due misurini di ingrediente base riscaldare a elevata temperatura per un minuto aggiungere quattro radici di valeriana nel calderone mescolare sette volte in senso orario e agitare la bacchetta questa lezione è stata abbastanza corta perché per settimana prossima non ci sarà il solito riassunto schema infatti quello non dovrete farlo ma ci sarà la prima gara ufficiale di hogwarts ovviamente delle casate in pratica dovrete fare un disegno sul distillato soporifero caratterizzando al meglio il suo effetto e facendolo guadagnerete automaticamente 10 punti una volta fatti tutti i disegni voi delle casate vi metterete d'accordo sul decretare il disegno che secondo voi è il migliore farlo gareggiare e i quattro disegni che gareggeranno la sfida verranno valutati per la casata quindi se un disegno prende 40 punti alla casata arrivano 40 punti in più il disegno vincitore che verrà decretato con un sondaggio di me, Rebecca e Carlo vincerà 30 punti e ovviamente questi 30 punti andranno alla casata e la prima sfida è molto semplice quindi impegnatevi, divertitevi e spero vi piaccia ci vediamo alla prossima lezione